Accoglienza e ristorazione fanno parte del DNA di Daniele Zunica, come l'amore per il suo territorio e la sua Civitella, che ha trovato voce con il ruolo di presidente regionale di Assoturismo Abruzzo e vicepresidente del Cotuge, il consorzio per il turismo dei Monti Gemelli. Con Zunica 1880, ristorante Hotel a Civitella del Tronto e marca Zunica, che nella primavera 2018 ha rotto il privilegio del borgo borbonico per insediarsi nel centralissimo palazzo Guiderocchi di Ascoli Piceno. Nella ristorazione si vince solo se c'è la squadra, la squadra è fondamentale, è fondamentale anche la voglia, la passione, ma soprattutto fare squadra, fare sistema, cioè dallo chef a lavapiatti devono essere bravi. Daniele Zunica denuncia i problemi ormai decennali che riguardano soprattutto la viabilità provinciale, ma non retrocede di un passo sulla responsabilità degli amministratori, anche se forte della sua esperienza e della fiducia che da sempre ripone nei giovani, considera il nuovo presidente della provincia Diego di Buonaventura, capace e con buone prospettive. Mi hai chiamato ieri sera, sono stato molto felice, ma io personalmente scommetto sempre sui giovani, i giovani sono la mia passione, i giovani lo faccio nella ristorazione, lo faccio nella vita, i giovani hanno una marcia in più. La doppia frequentazione con i territori abruzzesi e marchigiani poi inevitabilmente lo porta a un confronto che si rivela amaro, nonostante il forte investimento nel turismo, soprattutto nel periodo post-sisma della città di Ascoli, in realtà le vere eccellenze enogastronomiche sono tutte abruzzesi e il suo orgoglio nell'affermarlo mostra quanto l'impegno e la dedizione portano solo buoni frutti, come dimostra la guida dei ristoranti d'Italia del Gambero Rosso 2018, che premia con due forchette, Freccia in Crescita e il ristorante Civitellese, a cui fanno seguito e al primo colpo, a soli cinque mesi dall'apertura, due gamberi per il presidio Ascolano. Gli ultimi anni effettivamente hanno investito molto sul turismo, basti pensare che a Ascoli attualmente si attesta sulle 250 mila presenze alberghiere. Ascoli è la città che quest'anno nel post-sisma ha fatto 170 eventi, Ascoli è la città che l'altra sera, sabato sera, dove noi siamo stati presenti insieme a Massimo Bottura, ha fatto un evento grandioso a Mandola sul tartufo bianco dei Sibillini, ma soprattutto per incentivare queste zone colpite dal sisma, quindi c'era la grande stampa internazionale, c'erano un po' tutti. Noi mentre sul turismo abbiamo veramente toppato, negli ultimi anni sicuramente non abbiamo fatto delle grandi cose, non abbiamo fatto delle grandi cose perché tutta la politica sul turismo non è stata fatta, è stata sostanzialmente massacrata il tutto dalle DMC, che io ancora oggi dico pubblicamente che hanno distrutto quel po' di turismo che avevamo creato, noi siamo la diciottesima regione, quindi in Italia non contiamo nulla effettivamente, però quel po' che avevamo creato è stato sostanzialmente distrutto dalle DMC e da una politica regionale che sostanzialmente ci ha penalizzato fortemente. Grazie.